Fino a qualche settimana or sono, il cartone animato che più associavano a Cagliari era Cenerentola, la squadra già votata alla retrocessione, la squadra che non aveva speranze, la squadra che era una zucca che mai avrebbe potuto pensare di trasformarsi, invece con il lavoro, la determinazione, la società, coach Iacozza e i giocatori hanno trasformato quella zucca in carrozza, una carrozza di quelle moderne, un frecciarossa capace di violare i campi di Forliera Venna, una carrozza capace di rimonte importanti, di primi tempi come quello di Faenza e non sono cambiati i giocatori, gli analizzi a parte, sono cambiate le facce, l'atteggiamento, il giocare insieme, la squadra che non si passava la palla, che non difendeva, che giocava per le statistiche, si è trasformata nel gruppo del balletto. Intendiamoci, la strada per la salvezza è ancora lunga, ma ora Cagliari dà fastidio, ora gli avversari leggono il calendario e non sorridono di fronte al nome della Herz, già perché devono preparare la partita per fermare Miles, devastante nei primi 20 minuti con Ravenna, devono saper lottare contro Johnson, Bucarelli, Piccarelli e Matrone, simboli di quell'ardore agonistico che ti permette di avere sempre la testa alta. Abbiamo dimenticato che quella carrozza ha messo il motore che ha il nome di Roberto Rullo, oggetto misterioso nella prima parte di campionato, assoluto trascinatore protagonista nell'ultimo mese, capace delle stesse prodezze mostrate l'anno scorso al piano di sopra con la maglia di Cantù. Alla guida della carrozza c'è l'emblema di questa nuova faccia di Cagliari, Ale Iacozza assistente dell'ultima ora, head coach per caso, ma che si merita ogni centimetro, ogni punto, ogni passo in avanti fatto dalla sua squadra. Pensate che mercoledì questa zucca si presenterà treviso con la storia del basket e con Venetti in panchina, poco importa, vince o perde questa Cagliari al sapore di squadra che lotta e non molla, forse hanno iniziato a capirlo anche ai tifosi, sperando di poter assistere all'ennesimo incantesimo della stagione, quello che porta la lettera A.